ciao questo è il solito il solito video sui film che riesco ad andarmi a recuperare e guardare che mi sono andato a vedere questo film che si chiama spese odditi che è un film come film e risulta del 2022 ma ho visto che è uscito alla fine di marzo del 2023 che la sua data d'uscita proprio ufficiale è stata proprio 31 marzo del 2023 che è il solito film americano degli stati uniti che che come genere tocca a parte che la solita commedia americana che può toccare più di un genere che che può essere anche prendere anche la fantascienza un po dramma romantico come film più che altro come stavo dicendo è commedia che come il livello di trama e anche come è fatto il film come si dice il solito film per passarsi uno quello retta e mezza che come film edu a 1 e 35 quasi che la parte delle del regista questo chi ha seduto uic che essendo americano degli stati uniti ho visto che c'erano anche attori anche conosciuti dentro che essendo commedia magari come il livello come si dice come essendo americano è fatto sempre bene però come il livello di trama essendo che tocco commedia magari uno non si può aspettare magari come il livello di trama così complicata o così magari che può prendere magari così trattate un pubblico può prendere ma che può prendere tante persone perché un po' come il livello di trama è un po' sempliciotto come film essendo commedia che parla più che altro di questo uomo si è suonato dallo spazio che che ottiene l'opportunità di una di una vita grazie grazie a un programma di colonizzazione di mate ma scopre che i suoi piani sono compromessi dai sentimenti che prova per una donna che lo riporta più che altro sulla terra che la trama magari in del film e del film e a questa qualche di questo uomo che cerca l'aiuto di una compagnia di assicurazione per pianificare un viaggio di sola andato sommate ma lo stesso momento trova questa come si dice questa donna che grazie ai sentimenti lo riporta sulla terra per questo può toccare magari un po' il genere magari romantico come film oltre che commedia come 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 si dice con protagonista questo uomo che come stavo dicendo e ha ossessionato dallo spazio che ottiene l'opportunità di una vita grazie a un programma di colonizzazione di mate ma scopre che i suoi piani sono compromessi dai sentimenti che prova per una donna che lo riporterà come ho detto prima sulla terra che magari essendo commedia magari uno non può aspettarsi sto gran film però come ho detto prima il solito film per passarsi col colore colloretta e mezza che è concentrato più che altro su alex e questo uomo come ho detto prima che abbandona la terra e decidi di lasciare tutto alle spalle per per questa missione di solo andata sommate ma viene per colpa di queste di questa storia d'amore dei sentimenti che prova per una donna che lo che lo costringe in aspettatamente di rimanere proprio sulla terra che la trama inizia del film era questa qua come al solito magari vi lascio tutte le informazioni magari sotto sotto in descrizione oltre il solito video trailer e cast se riesco a trovare magari anche e altre informazioni su film tutto sotto come al solito in descrizione e niente che quello che potevo dire più che altro su questo film magari l'ho già detta al massimo ci vediamo sicuramente più avanti con i miei soliti video che porto sul mio canale e niente per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao